L'Ondra chiude le frontiere! In seguito alle dichiarazioni del ministro dell'interno Teresa May che la grande chita morta dilaga il panico su tutto il web e i leoni da tastiera prendono piede Tutti lì quei segaioli a scrivere minchiate su Facebook Vi rincuoro subito dicendo che gli esperti di politica economica fanno un bel fernaggio Ah! E' più che ovvio cari ragazzi miei che questa sia una bufala anche perché le frontiere non possono essere chiuse dal Regno Unito Sapete perché? Perché ci portamme i sord Dal 2001 al 2011, indovinate quanto abbiamo versato alle casse dello Stato Inglese? Più di 20 miliardi di sterline! Mietlander e Virsi Cammino Questo dato è ancora più importante se si vuole semplicemente considerare il fatto che il 43% delle persone che sono emigrate in questo lasso di tempo non ha usufruito di alcuna agevolazione fiscale e poi dicono che gli italiani vanno all'Ondra solo per guadagnare sui benefits Che cosa succede quindi se improvvisamente per assurdo dovessero chiudere le frontiere? Ma chi ci rimane in Inghilterra? Ragazzi le frontiere non possono essere chiuse assolutamente Anche perché se le chiudessero vi assicuro che Londra insieme a Brighton, Liverpool, Manchester chiuderebbero Baracca La forza motrice è sicuramente quella straniera e vogliamo parlare di cervelli Si stima che il 60% delle giovani menti, quelle più brillanti sono appunto straniere e provengono dall'Europa Ma io vi immaginate veramente un'Inghilterra, un'Irlanda, una Scozia senza noi europei? Ragazzi non dovete assolutamente aver paura della chiusura delle frontiere Questi sono concetti per gli anti-europeisti Ve lo assicuro sono pensieri anacronistici Se state cercando delle informazioni giuste, vere, che citano le fonti Vi consiglio di dare uno sguardo al blog di Living on the Way Dove vedrete al 100% che citiamo fonti autorevoli come il sole 24 ore Why you? Ma è che stanno parlando? Ciao 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 Ciao